Salve a tutti ragazzi, è il Bertolini dal vostro Jack and Jack 96, questa volta ci vediamo sul Fallout 3 Allora ragazzi siamo stati qui che praticamente è uno scorso che abbiamo finito la missione di Riley E siamo andati a prendere una nuova missione secondaria, cioè furto dichiarazione di indipendenza E adesso dobbiamo andare qui a prendere appunto il furto dichiarazione di indipendenza La dichiarazione di indipendenza senza furto, dettagli Ok niente, adesso abbiamo preso la scensione segreto e ci troviamo all'interno del capo blindato Oggi mi rivolgo a voi con il messaggio della massima urgenza Sì Oh oh, ok, oh oh Sì sì, noi siamo il nemico, vai tranquillo Qui è pieno di robot signori, quindi preparatevi se volete le grata impulsi Vai, esplodi tutto Vediamo un po' No, qui non era Era qui allora Oh, salve, ecco, adesso si fa, giustamente Vai, alzati, veloce Mori, c'è stronzo Allora, vediamo un po' se qui sotto c'è qualcosa di utile No, vabbè, però qui c'è stata un'altra porta Non mi vado ad andarci Questo luogo qui non me lo ricordo tanto bene, signori, eh Quindi lo scopriremo insieme No, dai scherzo, lo so dove devo andare, dove devo andare qui sopra E qui dentro questa porta Se non mi ricordo male Non ancora Chiudi qua Di qua, eh Salve Ardito Amica mia, potete vi togliere i coglioni Ok C'è anche il robot sentinella Morice Questo qua fa male, eh Il robot sentinella fa malissimo Vai così A posto Questo qui fa male, cane, signori Mamma mia Perché c'è laser gatling Non vedo la diavella anch'io Allora, qui togliamo l'anno Perché qui vedo gas Non va bene Scatola di mine Mine impulsi Va bene Grazie Allora Andiamo prima a vedere dentro quella sala Perché non mi ricordo se era lì Qui non c'è nessuno Ok, perfetto No, non era qua Possiamo anche andare avanti Allora Togli quest'arma Oh Allora Proseguiamo andando dritti per di qui Questa la togliamo a giocare in terza persona Vai, vai Ah, sì, vabbè, giusto Qui Vai, lontanati Vai Oh No, perché Se non lo facevi, cazzo Mi incazzavo E che fa Ehi, scusa, document Però Mi dispiace tanto per te, giuro Ok, allora Qui ci stanno munizioni E anche lo stat boy, vedo E qui anche in kit medico Uno steampack Vabbè, se vi siete spiegati, però Grazie No, ti tenete premuto Ok Ho sentito rumore di arma, però Ah, pistola rasa Te la puoi anche tenere Ok Allora, andiamo dritti per di qui Qui ci stanno altre Fucile rasa Presa a buffo Giusto Ripariamoci il nostro a sto punto Se c'è bisogno di ripararlo Ok, vai No, no, non lo volevo lasciare, però Vabbè Oggi sono un po' ringoglionito, signori Allora Denaro per bellico Denaro per bellico Niente Denaro per bellico Ovviamente questi qua Vi li potete vendere Per chi non si ricorda Che già l'ho detto mille mila volte Questi qua ve li vendete E fate un sacco di soldi Questo qui già l'ho aperto Ok Andiamo qui Media Per fortuna la possiamo aprire Nope Vai Vabbè, però di qua Ripassiamo stessa Dove siamo passati prima Va bene Allora dobbiamo andare di qua Dobbiamo scendere Dove stavamo scendendo prima Uii Ok Madonna Perché è così lontana la visuale Ok Perché prendiamo fuoco Giusto, giusto Quando prendiamo fuoco Si è lontana Non possiamo permettere al nemico di penetrare Si, si ripenetra il tendo del cavo Si, si Bla, bla, bla Vai Proviamo qui Qui non ci sta niente Qui è media Potenzialo bene Facciamo così Vai No Ho rotto Non importa Ce ne abbiamo altre 71 Vai così Qui ci sta una cosa molto importante Però è protetta Uno E due Perfetto Qui come dovete vedere Un sacco di munizioni Stanno arrivando robot Quindi sbrighiamoci Ok Vai Vai così Carta dei diritti Non è quella che cecchiamo Lì ci sta a stia da congresso Mezzo nero Nero Non negro Perché ogni volta dico negro Mezzo nero Eccolo qui Vai così E vai così No Robot sentinella no Oh cazzo Vai 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 Sempre più forte Sempre più forte Ok No non volevo Pallare con te E poi non dici quello Ok Allora La cosa dei diritti La carta dei diritti L'abbiamo trovata Questa è difficile Perfetto la possiamo fare Nope Oh yeah Vai Ok Tanto lì non ci vado Ok Allora Perché passo di qua E cala Lancia fiamme se sta a rompe E muoio Al dito di merda Ok Usiamo un pochino Il terribile fucile Vai No 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 Il robot sentinella no Baffanculo Allarme Allarme C'è un nemico Non gli faccio un cazzo Aia Aia Vai 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 Devo ricaricare Madonna il sangue che mi ha tolto Sì C'è anche il lanciamissi Me ne lo sono scontato di dirvelo Tanto l'avete anche intuito da soli Perché lascia anche il missile E zitto Oh Vedete missile Giusto Ok Passiamo di qui Che mi pare che qui ci stava un'altra cosa Vediamo Sì Me lo ricordavo Ovviamente con altre cose che proteggono Mi vale giusto Vai qui Al sinistra Vai così Ta 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 Ok Sì spara 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 come un porco Ok Perfetto L'ho letto Sì da congresso Mezzognero Mi pare che sì Comunque Prendiamo questo Prendiamo questo Andiamo un pochino insieme Sì non ce ne sta più L'ho letto L'ho letto Ok Vediamo queste altre cose Ecco qui Magna carta La magna carta Mangiamo seduta la carta E ci avremo fame Ok Perché tu vai in giro Con la granata in mano Sono tentato signori Intanto per ora Dobbiamo anche uccidere Però no Me la tengo ancora Mi può essere utile Non è vero niente Sto facendo tutto io Però Fa niente Dettagli Togliamoci un attimo l'arma E andiamo qua Che dobbiamo andare qui Mi pare che c'è stata Anche un'altra carta No Non mi vado a cercar così Salve Chi è lei C'è la testa di Sydney Soldati Sono robot Ma lei chi è La dichiarazione deve restare qui È un simbolo di speranza Che grida Siamo una nazione libera Ok Sei un robot Non sono un robot Sono Baton Gwinnett Il secondo firmatario Della dichiarazione di indipendenza E esigno deputato Della Georgia Che te l'ho messo E c'è bello dentro il robot Non voglio combattere Stocchi Pistole all'alba Sputero Stocchi Ok Questo non è un semplice pezzo di carta Signore È la dottrina concepita dai membri Del secondo congresso continentale Ci ha liberato dalla tirannia Di re Giorgio III di Gran Bretagna È il più grande simbolo Di questa nazione libera Ok Buggie e inganni Potranno essere i metodi Adottati dai sovrani inglesi Ma io non ricorrerò A tali idiozie Sembra che tu voglia risolvere La faccenda Senza spargimento di sangue Quindi ti consiglio di R Io li dà migliore Prometto un ottimo trattamento Come si conviene A un membro Dell'esercito reale Io invece no Ti riprogrammo Spiegati Ma ti avviso Conosco tutte le tattiche Delle subito le spie E delle giubbalsi Non sono una giubbalossa io Ma è meglio A tenerlo a mente Oddio Ehm Adesso ci proviamo No Lei signore è un bugiare Un truffatore E forse una spia Della corona reale La esorto a non forzare La mia pazienza Io mi ricordo E lo potevo riprogrammare A meno che non ho preso L'abilità di esperto di robotica Interessante Ho un piano Per situazioni come questa Forse proverà che Sei qui Invest di alleato Anziché di nemico Abbiamo preparato Un falso Della dichiarazione Da spedire in Gran Bretagna Ci darà il tempo Per portare sano E salvo Il documento Fuori di qui Mi piacerebbe essere a corte Quando Re Giorgio Scoprirà di aver sprecato Tutte le sue risorse Per un falso Ma vai a cagare Mo ti uccido Stai tranquillo Ehm Sì perché possiamo creare Un falso Con l'inchiostro Ehm Ce l'ho Il posto migliore Per trovare qualcosa È la biblioteca Di Arlind Ecco perché Non mi è riuscito Dopotutto Non posso abbandonare Queste fortificazioni Ehm Ottimo Per favore Affrettati a rientrare Non so per quanto tempo Riusciremo a resistere E la mia volta Sto facendo questa cosa Perché Ho sempre preso Aspetto di robotica Presto sfonderanno le mura E l'ultimo bastione Degli USA Crollerà Ma non è vero Ciao Sì sì Aspetta un secondo Tiè Presto Procurami l'inchiostro E ti preparerò Un duplicato Della dichiarazione Di indipendenza Ce l'ho Ecco qui Un duplicato perfetto Questo darà Del filo da torcere Al vecchio Giorgio Quali sono I prossimi ordini Del congresso Sparisci Mi sconvolge Sentire queste parole Da ti Pensavo di fare Del mio meglio Difendermi Sì sì Avendo fallito Addim Si è ucciso Bellissimo Ok Allora Io Mi vendo tutta sta roba E poi dopo tu muori E poi dopo tu Muori Perfetto Adesso Terminale di sicurezza Lo apriamo E prendiamo la vera Dicare la dichiarazione Di indipendenza Così abbiamo sia falso Che no Blocca Sblocca Sblocca Vai A posto Apri Eccola qua Mia Vai E vai Qui Racconti di un vendito Di cane Di Hugentown Sì sì Va bene Junk town Ok vabbè Quello E qui invece Grazie Molto gentile Da parte sua Ok Perfetto Adesso Ci curiamo Per benino E E E E Voilà Ciao Sydney Dai La mia arma leggendaria Ormai io tutte quante Chiamami leggendaria Ma ok Perfetto Non è quel problema Ok Possiamo anche uscire Andiamo qui E qui ci sono tutti gli altri Presidenti Qui c'è Button Gwyneth Con la carina Se è suicidato John Hancock Poi c'è Vediamo un po' John Adams Che sta Non c'è Poi qui c'è Benjamin Franklin Che non c'è C'è uno che c'era Eccolo Thomas Jefferson Proviamo un po' A chiamarlo Attiva l'unità Danno connessa Chiamano l'unità Bisoglio adesso Sì Voglio attivarla E manutenzione Sta maledetta Quindi qua invece Chi c'è L'avemmo già visto Edward Rutledge Ok va bene Qui chi c'è John Wilson E qui Ci sta il robot Il protettore di backup Ok Direttivi Sì Soprattutto di Di programmazione Ci mettiamo Button Gwyneth Quello si è suicidato Unità non Prese No Giusto Allora ci mettiamo Franklin Non c'è Questo Eseguito Sferimento Ok E attiviamola Vediamo un po' Che fa Io mi provo Già Ehi Salve Ti scusi Eccolo L'ha fatto via Un colpo Mortacci Tu Cioè Ti senti Questa Fai Ecc Mortacci Tu Mi hai Pgliato Un colpo Ok Perfetto Qui non ci sta niente Non ci sta niente Possiamo anche uscire Niente Niente La missione secondaria L'abbiamo completata Adesso ci Io vado da Come cavolo si chiama Quello Perché mi scordo i nomi Perché Oh cazzo Ci sono i nemici Da Washington Salve Supermutante Muoia Ok Quindi là Stanno facendo il giro Dall'altra parte Vabbè Io intanto Io mi lutto Questi nemici E ci vediamo Tra poco Da Washington Ok signori Ho raggiunto Ecco qui Eccoci Siamo arrivati Al museo di storia Dove si trova Coso Washington Dove cazzo sei Eccolo qui Eccolo qui Washington Salve Washington Ok Ora una dichiarazione Di indivenenza Hai la dichiarazione Incredibile Hai visto Ti rendi conto Che portandomi questo Avete lasciato Il vostro segno In delega Non ce l'ha fatta Siete entrambi Veri eroi americani E sarete ricordati Per questo giorno Glorione L'ho fatto per la sua arma Io Il nome di Sidney Sarà sempre ricordato Per il grande sacrificio Da lei compiuto Era una patriota E la ripiangeremo Per sempre Ma è abbastanza Permettimi di ricompensarti Per quello che hai fatto Ok Ehm La carta dei diritti Per bacco Non mi sarei mai aspettato Che qualcuno lo trovasse Non sapevo neppure Che fosse ancora intatto Hai visto 200 no Vabbè Grazie mille Prego È stato un piacere Ehm Una magna carta In effetti lo sono Sebbene vi fossero Numerose copie del documento Non mi sarei mai aspettato Di trovarne una intatta Eh Aspettatevo da me Che cosa ne dici Di 75 tappi in cambio Va bene Grazie mille Ok Ehm Niente Ciao Ok perfetto Qui ci sono tutte le cose Che abbiamo recuperato Mi pare No Vabbè Queste qua sono le cose Normali che ci sono sempre state Non mi ricordo dove mette Quell'altra Ma comunque Abbiamo anche ottenuto Lo spara chiodi Eccolo qui Ovviamente Le cose che ci servono Ce l'ho a casa Quindi lo faremo Prossimamente Quindi niente Visto che siamo a 16 minuti di video Io il video di oggi Lo finisco qui Nel prossimo gameplay Andremo a fare la missione Principale Signori Quindi In finire le missioni Secondarie Di questo Gameplay Andremo a fare la missione Principale Quindi nel prossimo che prendere Ma aiutare il paparino nostro Quindi niente Ragazzi Vi do oggi Vi usci qui Ciao Bella Come va Tutto a posto Ok Quindi niente Ragazzi Vi do oggi Vi usci qui Ditemi se vi è piaciuto Niente Ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi